Oggi siamo al campo di ammassamento dei soccorritori di Forlì, tra oggi e domani sono in arrivo circa 100 volontari Ampas che si uniranno agli altri volontari che sono già qui per soccorrere le popolazioni colpite da questa emergenza. Da questo luogo i volontari insieme agli altri volontari delle colonne regionali e altre colonne nazionali partiranno per dare soccorso nelle zone di Forlì, di Faenza e di Ravenna. Siamo organizzati come da richieste ricevute per un intervento logistico e idrogeologico e siamo attrezzati con mezzi in movimento terra, idrovore ad alta capacità di pompaggio fino alla pulizia completa con idrovore più piccole e i moduli pulizia strade in modo da acquisire un'area e portarla dall'inizio alla fine in tutto il periodo che staremo qui a operare. Grazie!